Io vi prometto che se questo video dovesse arrivare a 17,777 precisi mi piace E il prossimo episodio sarà esclusivamente fatto sulla sezione Gnu di Meme Sita Gnu è anche un animale, lo Gnu Amici miei, benvenuti in questo nuovissimo video Anche perché se fosse stato vecchio io in questo momento sarei the future travelman, future man Oggi siamo qui intanto perché Non so perché il montatore mi abbia messo la soundtrack di Demon Slayer quando io non ho ancora visto Demon Slayer Inammissibile Detto questo mettete un mi piace se siete ancora in tempo per completare la NN E se non siete riusciti a completarla o se avete già perso dopo sette giorni Scrivete qua sotto nei commenti Addio soldati Detto questo siamo nel nostro subreddit di Meme Sita Che conta attualmente 225 rifugiati di Instagram Ed è il subreddit italiano più grosso Siete persone cattive Siete persone cattive Ci sono troppe persone Mi morendolo chiuso Detto questo Vincere la NN Vincere la DDD Cos'è la DDD? DDD challenge La DDD è una sorta di ricompensa per i vincitori della NNN In pratica chi è riuscito a praticare l'astinenza per tutto il mese di novembre Con questa nuova challenge può fare l'esatto opposto Ma procediamo Io ho 8 anni dopo aver portato al parchetto un mucchio di sassi sporchi colorati ai miei boys Vi chiederete come abbia fatto ad arrivare a tale ricchezza Ma ragazzi ma in realtà il signor Marco Rig è davvero ricco Cioè credo o mi sta beiitando totalmente oppure è davvero ricco Sicuramente più ricco di noi E sicuramente col drop shipping si fanno molti più soldi che con YouTube Sicuro Cioè guardate in che porcile vivo Cioè ditemi se io sono una persona ricca Cioè vi sembro ricco? No! Totalmente! Io decido di spegnere il PC Sistema nel frattempo Error! Is this an error reference? Prossimamente ragazzi non sono carcerati veri ovviamente Cioè ovviamente sono fake Il fisico del prof di Geostoria Il fisico del prof di ginnastica Ma Geostoria non è geologia? Ah no! È la storia della geografia Che bella materia del c***o Pov si è messa E Gesù chiese a Levi di seguirlo E lui lasciò tutto e lo invitò a casa sua Il fanboy dell'attacco dei giganti Si pronuncia Levi Non Levi Is this a AOT reference? Quando ti dicono che l'amore è più forte di qualsiasi cosa Ma dopo che hai lanciato una bomba su due innamorati Questi due muoiono Questi bastardi mi hanno mentito Questa è proprio una chiara situazione tragicomica Oh mio Dio Quando la tippa che ti piace ti guarda per un secondo Raga mi ha attivato la torre centrale Oh no! Un memino a tema sessuale sus A tema sussuale Quando a sette anni Dopo aver lasciato una briciola di diametro Pari a quello di un atomo sul piatto Tu madre inizia a farti il discorso di Che non mangia da cinque secoli Mi è caduto l'ultimo Ma i miei mini su Che non mangiano Basta Starter pack Il mio stile è unico bro Sicuramente Non posso essere io Dopo aver scoperto Come realizzare una fonte d'acqua È finita grazie a minecraft Ma non c'è audio Ma non c'è musica in questo memino Vincere la NN da uomo Vincere la FF da uomo C'è un'altra challenge Ma cos'è la F? Ma ce n'è una No finger February C'è qualcosa che non va No questo memino è molto divertente Dannazione Purtroppo è morto nei gnu E non posso farvelo vedere Ovviamente blurramelo Dannazione No non la mia faccia Blurra il memino Ansole e Shrek hanno gli stessi vestiti Non è vero La mia vita non ha più un senso La mia vita Non ha più un senso Levels of hell L'inferno Limbo Last Grid Fra 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 Teacher Quelli che scrivono Primo sotto i commenti Di youtube Scrivete primo nei commenti Per andare all'inferno La ragazza Uomo che fa un complimento Ad una ragazza Denuncia per molestie Peduischi Perché No no Io da piccolo Quando a Natale Aspetto che arrivi mia nonna Con il pollo arrosso Per il cenone Beh che dire Davvero vero Anche guardavo I miei parenti Dalla finestra Il formicaio Dopo che hai bruciato Tutte le formiche Ma questo è Un code Quattro Reference Quando capisci Che i quattro terzi Delle persone Che partecipano All'NN Ne hanno già perso Ma in realtà È tutta una moda In realtà Nessuno sta partecipando Schifosi Falsi 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 Quando nel libro D'inglese Un personaggio Non sorridi E non è felice Ma avete finito Con sti memini Sui libri D'inglese Avete rotto Te lo approvo Perché mi ha fatto Quasi ridere Quasi ridere Non Non Quasi Un pochino Me getting up A 3 a.m To the link No Questo è un repost Ovviamente Di uno Oddio ma è vero Alle 3 di notte Che ci alziamo Io alle 3 In realtà sono ancora sveglio Tra l'altro potete seguirmi Tutte le sere Non tutte le sere Un giorno sì Un giorno no Sul canale viola Vi lascio il link Nel primo commento Perché siamo live Così Perché se vi è alzata Alle 3 di notte Siamo là Non proprio alle 3 di notte Sacchiamo all'una Però per dire È vera sta cosa Quando chiedi alla media set Dove vanno i cani Di striscia la notizia No No Ma mica siamo in No Non procediamo Quando non puoi prendere malattie Sessuali e sessualmente trasmissibili Si incontrano Si incontrano Odore del profumo Sapore del profumo Chi non sa Chi sa Se bevi il profumo È chiaramente sapore E c'è l'alcol Detto questo Signori miei È arrivato il momento Non abbiamo trovato ancora Un golden content Perché sono diventati Molto più rari Ma è arrivato il momento Di entrare Nei top Della settimana Sigla Prego montatore Prego Non abbiamo una sigla La faccio io Seguite il mio labiale L'ore delle strade romane Gameplay Nelle strade romane Beh Non è Non è cambiato molto Diciamo Non è cambiato molto Cioè nel senso Non è Anzi È cambiato tutto Perché prima era tutto fatto bene Adesso ci sono i buchi Ma queste non sono buchi Questi sono Questi sono di rupi Cioè più che buchi Sono di rupi Ste robe Io che mi sveglio Il primo novembre Ma non fatela ragazzi Non fatela Perdetela subito Chi se ne frega Cioè volete dire che Questa foto di Jumpy Tech Vi fa resistere Effettivamente Giovanni Mucciaccia Grande sex symbol Quando guidi per la prima volta Un taxi Che non sia fake taxi Che non sia fake taxi E la ragazza Le toiterà e dice Ho caldo E mi sto bagnando Che faccio? Fermi tutti Tutti che parlano Della NNN Io che li guardo Dal paradiso Perché ho perso Al secondo giorno Anzi vi racconto Un aneddoto Se fate la NNN Rischiate davvero Di andare in paradiso Occhio la vostra prostata Al giorno qualcuno Qualcuno ha posto Un meme sulla NNN È una battaglia Persa in partenza Oh mio dio Io spero che finisca Al più presto Questa NNN Perché non ne posso più Già Come la prof si sente Quando ha fatto una battuta Salve Avete appena assistito Alla battuta Il grande ridere La simpatia L'umorismo La comicità odierna La risata L'ilarità La burla Gli scherzo La beffa La ludrica affermazione Lo spasso Il divertimento L'arguta ironia Il ghigno Il dileggio L'irrisione La spiritosaggine Lo svago La corbellatura Il giuoco L'amenità Lo scherno La pacezia Il frizzo La piacevolezza La briosità Il motteggio La beffardaggine Golden content Dai stacce Ce sta Si sta Partite di calcio femminile Campo di patate Mi discosto Halloween L'ultima seg Beh ragazzi Scusate C'è il venerdì santo Che è l'ultima cena No quando è l'ultima Il giorno prima Halloween Potremmo chiamarlo Invece che Halloween No poi ci chiamiamo Reddit che fa meme originali Instagram che copia meme di Reddit Facebook che copia meme da Instagram Google che copia meme da Facebook Google che è il mega contenitore di tutto Do 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 si la sol Fa 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 mi redò Chi non sa chi sa Do 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 si la sol Fa fa mi redò Aspettate un attimo Mi ricorda qualcosa E con terribile disappunto Io vi ricordo Di iscrivervi al canale Per non perdervi i prossimi video Cliccare sulla campanella Per trasformare Questo Canile In una chiesa E detto questo Questo è proprio un terribile Disappunto Mi ricorda qualcosa Ma non so proprio cosa Ci vediamo Mercoledì con un prossimo video Un saluto Ciao